a zero, al fondo valle, all'attacco si dice, e finisce alla fine quando sei giù e non finisce in cima. La cima è soltanto un punto di cambio, prima si sale, poi si scende, però la nostra vita è anche un arco tra la nascita e la morte e dobbiamo accettare questo fatto e capire che cosa succede anche dopo questo momento che vivo adesso affinché posso non godere la vita, ma viverla fortemente, viverla con coraggio e usarla anche per esprimermi, per trovare tutto quello che sta dentro di me e ho il diritto, forse anche l'obbligo, di esprimermi con tutte le mie capacità, con tutte le mie forze e lo posso fare soltanto se so che la vita è limitata. Se la vita non fosse limitata, non sarebbe soltanto noiosa, non sarebbe sopportabile, non ci darebbe la possibilità di viverla intensamente come lo vedo io.